Stimatissimi Vapers, benvenuti in un nuovo video in compagnia di Moreno. Siamo ancora in Italia. Signori, permettetemi di presentarvi. Biochip, atomizzatore bottom feeder da 22 mm, creato da Mirz. Guardiamo i dettagli. Atomizzatore indubbiamente interessante, particolare anche in sistema dei flussi d'aria. Non ha alcuna particolare incisione, dotato esclusivamente di pin bottom feeder con inserto quadrato. Questo è il logo del biochip. Interessante la struttura. I materiali utilizzati per questo atomizzatore, by Mirz, sono dell'acciaio 316, del PIC doppio strato, utilizzato in soluzioni chirurgiche, e il tip in teflon. L'atomizzatore ha un diametro di 22 mm, con il suo tip originale ha un'altezza di 29 mm.3. Il diametro interno del nostro tip è pari a 6 mm. L'asola è lunga 2 mm ed è alta 1 mm.8. Ora, visto le sue dimensioni del biochip, andiamo a vedere in dettagli di quante parti è composto. Il nostro atomizzatore è composto da 4 parti. Questo è il tip, la materia utilizzata è il teflon, attacco 510, doppia tenuta o ring di silicone alimentare di colore rosso. Questa è la parte superiore, acciaio 316, leggermente opacizzato. Questo è l'inserto del nostro tip. Come vedete abbiamo uno ring per la tenuta dello stesso. E come potete notare, da qui ci sono i primi accorgimenti per scoprire da dove viene generato il flusso d'aria. Questo atomizzatore prenderà il flusso d'aria da questi canali qua, che si trovano in questi lati. Poi verranno condotti in queste altre due asole, che poi seguiranno il disegno dell'atomizzatore. La nostra campana con il logo del biochip, materiale PIC, doppia stratificazione, resiste notevolmente al colore questo materiale. Segue la parte superiore, come noterete, metà dell'asola viene posta qui, l'altra metà è data dal coperchio in acciaio. Il flusso dell'aria entra in questa sezione qui e viene convogliato nella parte bassa, in queste due sezioni. Ma come sempre, il cuore. Ecco il cuore del biochip, composto da acciaio e PIC. Doppio ring di tenuta, colore rosso. Ecco il suo interno. I flussi dell'aria dall'alto scenderanno in questi due canali, verranno riportati qui, in queste asole, e poi andranno direttamente nella parte bassa del nostro deck. Quindi avremo indubbiamente un flusso stretto, da un certo punto di vista avrà un tiraggio molto stretto, ma la combinazione di questa sorgente permette una particolare turbolenza da creare veramente un alto livello aromatico. Il pin button feeder è chiuso in questa sezione e alimenta queste due piccole vaschette dove andrà inserito il cotone depositato. Quindi non avremo liquidi che scorrono in questa sezione qui, quindi non avremo la possibilità di avere del liquido che subentra all'interno delle nostre due camere, delle nostre due asole dell'aria, ma verrà direttamente inserito nelle due vaschette dove ci sarà il cotone. Gli inserti, le nostre torrette, sono veramente fatte bene. Mi piace questa particolare rotondità che Mirz ha scelto, veramente elegante, se mi concedete il termine. Ha addirittura generato queste piccole asole affinché il filo, la nostra coil, essendo una torretta passante, ci permette questo inserimento. Quindi avremo una posizione obbligata dove terremo il filo per fare la nostra rigenerazione. Controlliamo la profondità delle nostre micro vaschette per vedere quant'è l'altezza. La nostra vaschetta ha un'altezza di 5 mm.6. Abbiamo visto i dettagli del nostro atomizzatore e ora non ci rimane altro che la prova di rigenerazione. Avendo avuto la possibilità di parlare con il modder, mi sono fatto consigliare naturalmente per la rigenerazione. Mi ha consigliato di utilizzare un Nikrom e mi ha dato anche un range di valori resistivi. Da un 0,45 Ohm a 1 Ohm.2, questo atomizzatore dà il meglio di se stesso. Del Nikrom N80 25 Gauge farò 6 spire su una punta da 2,5. La coil è stata opportunamente inserita all'interno del nostro deck. Come vedete l'ho posizionata all'altezza delle torrette per far sì che il flusso d'aria venga esattamente convogliato nella parte sottostante per creare le turbulenze all'interno del deck stesso. Questo è il posizionamento. La coil si mostra così. Attiviamola. Vediamo il valore resistivo a freddo. 0,5 Ohm. Facciamo la nostra piccola attivazione. Buona reattività. Come vedete il flusso del calore arriva fino all'estremità delle nostre gambette. A grandi linee questa è la quantità di cotone che andrò a utilizzare per il nostro biochip. Inseriamolo. Il cotone è stato correttamente disposto. Le vaschette aiutano indubbiamente molto alla disposizione dello stesso. Io sto utilizzando un cotone biologico di natura organica, quindi grezzo. Ora mi preparo all'attivazione dello stesso. Il cotone l'ho opportunamente attivato. Vediamo come risponde. Bellissima la reazione. Ora lo installiamo sulla box e facciamo la prova di squonco. Come gadget, a parte le parti di ricambio, costituite da tutti gli o-ring in silicone alimentare e due vitine. Desideravo segnalarvi che le viti esagonali hanno la testa piatta per un miglior adattamento della vostra chiave. E come accessorio c'è anche questo anellino selvagoccia che va a posto della base. Il colore è trasparente. Inseriamolo sulla nostra box. Il biochip, nato esclusivamente con soluzione button feeder, è doverosa alla prova di squonco. Viene fatta sulle parti laterali, quindi vediamo se si riesce a intravedere. Sì, perfettamente. Il nostro biochip è pronto. Abbiamo visto le prove di squonco. Non ci rimane altro che fare un bel test. Lo andiamo a verificare su una meccanica. Viva l'Italia, signori. Un atomizzatore da 22 mm che non ha nulla da invidiare agli altri atomizzatori da Flavor di fascia alta. Strepitosa. La sua resa aromatica è sconvolgente. Ho fatto una coil su una punta da 2,5 di Nikron 25 gouge. Mi ha dato un valore resistivo di 0,5 ohm per il mio gusto del Flavor. Ho trovato il massimo. Signori, questa è l'Italia. Stupendo. Credetemi, un grandissimo prodotto. Curato in ogni dettaglio. Materiali di prima classe. E nonostante questo flusso d'aria proveniente dall'alto, che può sembrare un tiro molto stretto, ti regalano sfumature aromatiche che quando conquistano il mio cuore, conquistano il mio palato, diventa musica. Se il video l'avete trovato interessante, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale, perché voi siete la mia energia, voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani. Biochip 22 mm RDA Button Feeder by Mirz.